Salve ragazzi, ben tornati con il prossimo episodio della Surraskai Siamo ritornati sulla Surraskai Nell'episodio precedente comunque abbiamo provato a fare così Abbiamo provato insomma ad Insomma a trovarci all'inizio Insomma a vedere un po' com'era il fatto Come andava il fattarello Fattarello fattocco Allora, eccoci qui Siamo tornati sulla Surraskai Le cose sono sempre le stesse perchè sto registrando di seguito Quindi Un bel like perchè sto registrando di seguito Allora, qui ci sono i Surraskai Questo è il primo Surraskai che l'abbiamo preso ovviamente in questa cesta Perchè questa qui è come se fosse la prima isola Capiamoci Dovrebbero essere 12 isole Perchè la Perchè 11 sono le isole che contengono sulla Sky E una dovrebbe essere il Wither Quindi non so l'isola del Wither qual è Quindi Bene Allora, il Kipmentoli non l'attiviamo Come abbiamo detto già nell'episodio precedente Il Kipmentoli non l'attiviamo perchè potesse dire Va benissimo Allora, qui intanto Dall'episodio precedente il ferro si è cotto Quindi io Non ci penso due volte A farmi Già ce l'ho uno sticchetto Che cavolo fai Allora, a farmi la spada di ferro Che secondo me è la cosa che dovevo farmi per forza Già da tempo Il problema, sapete dove sta? Non ho materiali per tornare Per andare in questa isola qui Perchè questa qui sarà la prima, sicuro E intanto piccone alla mano già Perchè ci sono degli spawner sicuri Allora, ho solo 5 di legno E 3 di terra Ce la faccio? La mia risposta è Non lo so Quella è la mia risposta Allora, intanto togli questi rubetti di acqua Perchè altrimenti va finì che l'albero non cresce Madonna, sì Allora, io sai che faccio? Faccio un po' come fanno tutti i video Quando piantano Un po' di terra sempre baggata Logicamente che ci vuoi fare La terra è sempre baggata Comunque Minecraft è sempre un bag Minecraft è il bag Minecraft è un bag Allora, facciamo così Facciamo una cosa tipo Alla damarra Giusto anche Così vediamo anche che cosa ci sta qua sotto Altri cubetti di ferro E la cosa la gradisco Altri cubetti di ferro E la cosa la gradisco Quindi adesso scendiamo qui Perchè dovrebbero stare qui? Eh sì, infatti Allora, dovrebbero essere qui Dovrebbero stare qui Cubetti di ferro Vediamo un poco Qui c'è la coblestone Qua dobbiamo stare Dai, dai Ah, eccolo qua Perfetto Già ci siamo fatti un altro cubetto Quindi ciò vuol dire Che è già qualcos'altro Quindi già un piccone No Non è un piccone Ce ne serve un altro Per apparare al piccone Allora, intanto Esploriamo un po' L'isola sotto Perché comunque Le isole sotto Ragazzi Nascondono sempre i segreti Ecco qua Un altro cubetto di ferro Infatti Questo è il segreto Carbone Carbone mi serve Mi devo dare due Mi devo fare due torce Madonna zio Come ti bagghi Oddio Si bagga bestia No Allora Abbiamo già Del cubetto di ferro Raccogli subito Questo carbone Perché Devo farmi le torce Non fa niente Se me ne faccio Tre o quattro Però l'importante Che me le faccio Le torce Allora Avevo visto Un altro cubetto di carbone Infatti Sta qua Ok Eccolo qua Un altro cubetto di carbone Non ti baggare A pure due carbone Ok Qua c'è un'altra colba Se ne approfitto Così per prenderla E me ne fugo E me ne fugo Ok L'isola 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 L'isota Ok Allora abbiamo già Tre cubetti di ferro Che metto subito A cuocere In poche parole Metto subito A cuocere Con che cosa Con niente Perché non ho Con combustibili In realtà Ce l'ho combustibili Però ho solo carbone E il carbone Mi servirà per fare Una cosa Del genere Otto torce Possono bestare Allora Raccogli questi Metti l'isola A riparo Metti l'isola A riparo Perché questa Secondo me È l'unica isola Che sarà a riparo Allora Mettere anche Piova Sul ponticello E abbiamo finito Già tutte le Le torce Allora Cibo Mi serve Mi serve Scherzato Allora Mangiamoci una bella Costoletta Di maiale grula Ok Allora Con 19 blocchi Di cobblestone Con tre pezzi di legno Così alla tamarra E direi di andare Dall'altro lato Dobbiamo passare Per forza di qui Sicuro Quindi Facciamo un piccolo Collegamento Si sta facendo notte Quindi devo Sbrigarmi Perché altrimenti Se su qualche isola Nascono dei mob Dopo Sono altamente Fottuto Quello è il problema Capitemi Mi capisciutemi Mi capisciutemi Sono arrivato? Perfetto Sono arrivato Sono già arrivato Allora Facciamo una cosa del genere Rompiamo qua Oddio 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 Ecco il primo mob Ecco il primo mob Eh Voilà Si buggano Adesso se si buggano pure i mob Dai No Adesso sto proprio Full Se si buggano pure i mob Oddio Oddio No No Ok Perfetto Allora Questa dovevo da pezzarla Questa dovevo da pezzarla Chest Che cazzo c'è scritto qua Ah c'è la sesta con il Surreal Sky No libro è incantato Affilatezza Allora Il Surreal Sky Dove cazzo stai? Allora Oddio Oddio raga Sta sotto Mi sa Mi sa che sta sotto Il Surreal Sky Dovrebbe stare qui qualcosa Dovrebbe stare sempre qualcosa Qui sotto la gravel Da qua comunque Continuano a spawnare Questo è uno zombie villager Mazza come è carino Zombie villager Secondo me qua Camperemo a Rotten Flash Eh raga Questo non lo mette nulla Camperemo a Rotten Flash Infatti già comincerò a campare A Rotten Flash Adesso Allora Dovrebbe essere sotto Il Surreal Sky Non lo so Ma perché nascono sempre I piccignaccoli del cavolo Allora Spada di ferro Spada di ferro Allora Direi di tornare Direi di prenderci Prima del legno Questo qua Questo legno qua Me lo prendo Me lo fanno Due vanno benissimo Due vanno benissimo Dai Due ho detto Vabbè Che cazzo Ah ho premuto Il tasto Il coglionazzo Qua ha premuto La press Il prete Ehm Torna la Va Torniamo alla mappa Ok Perfetto Siamo ritornati Allora Ehm A livello di mob Non so Cioè A livello di mob Vabbè Comunque mob ci stanno Questo l'abbiamo visto L'abbiamo anche accettato La spada di ferro Comunque Sei danni per colpo Quindi senza Mettere Allora Ehm Vediamo un poco Vediamo un poco Cosa fare Allora Abbiamo Ehm Devo farmi Delle torce Questo è poco Ma sicuro Però Aspetta Non fare le cazzadine Come si faceva Il charcoal Così Ah Perfetto Così Sacco No Questo è un bato Dai Un po' di charcoal Che dici Non me lo dà Allora Si è bacata anche la fornace Quindi essenzialmente Ehm Yuhu Yuppidu 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 Dai Ecco qua sta Allora I semini qua crescono E infatti l'ho tolto Infatti Sta crescendo E l'ho tolto Poi ho tolto Ah ho tolto Anche quello che stava crescendo Quindi siamo Tutte 6 Altri 3 semini Questi mini pianti Raga perché qua Vuol dire grano Semini vuol dire grano E grano vuol dire pane Quindi pane vuol dire cibo Ecco qua Adesso siamo qua Sempre 24 su 24 Ehm Allora Il creeper Allora Secondo me sarebbe meglio Attivare il mob griffin Dai Quindi torniamo alla hub Secondo me è meglio Perché altrimenti Qua c'è Ehm No rega Davvero davvero Ci facciamo il culo Voi mob Quindi allora Andiamo nelle impostazioni Della mappa Che dovrebbe essere qua Impostazioni mappa Allora Ehm Vediamo un po' Allora Mob griffin Dove sta? Eccolo qua Mob griffin Perfetto Keep inventory Non lo so No vai Non lo mettiamo Perché è come una skyblock Cioè Ehm Io me la sento Di farla senza Keep inventory Poi magari in futuro No perché no Perché no Metterle Keep inventory Allora Mangiamoci anche una costoletta Così per toglierci dalla Oh mi avvelena comunque So bastardo Non ho più cibo Ho solo rotto in flash Perfetto Quindi andiamo Alla grande Questo non cresce Come al solito Quindi Non cresce E lì ci sono già creeper Oddio Ci sono diamanti Ci sono diamanti E whatsapp Che mi suona Come al solito Allora Ehm Vabbè Io aspetto Che mi si riemponi i cuori Perché se no Là ci fanno il culo Mento un po' la omosità Sì È tutto aumentato Perfetto Andiamo alla grande Allora Facciamo minecraft E lo facciamo alla grande No Ho sentito il Il non zio Ma stava qua Ma non può essere Oddio Oddio ragazzi Che dolore Oddio Porca Eva Di quella zia tua Porca Madonna regà Oddio Pensavo che fosse Più facile Comunque Sta Sta mappa Invece Non è così Non è così Oddio ragazzi Che paura Oddio ragazzi Miei Oddio ragazzi Miei che paura Oddio Non ce l'ho fatta No regà Aspetto un po' Torna alla isola Poi magari Nel prossimo episodio Vi faccio trovare Già le torce Fatte Cerco Ecco qua Ma perché clicco Sempre la pesca Di merda Allora secondo me È meglio fare una strada Secondare Quindi Madonna regà Madonna regà Ha fatto i funghi Allora quindi Secondo me È meglio fare una cosa Del genere Un solo di legno Perché quell'altro Mi serve per fare Allora fai così Passatene Per di qua Vedi Così Vedi così Non la premi Metti un po' Di legno qua Perfetto E io direi Che per questo Altro episodio E tutto Vi ringrazio Mi piace Seguirmi su Instagram Twitter E Facebook Trovate tutti i social Nella descrizione E detto questo Ci vediamo con il prossimo episodio Della Sona Sky Bella Della Sona Sky